Ha aperto in via Veneto a Ravenna Stadera il primo minimercato autogestito della Romagna. Nato sull'onda di precedenti esperienze avviate in Europa e negli Stati Uniti, il progetto prevede che i soci, gli unici a poter acquistare i prodotti, prestino circa tre ore al mese del loro impegno in modo volontario alla gestione del punto vendita, un modo per abbassare notevolmente i prezzi. A volte a prima vista può essere intesa come un'associazione, ma qui quello che cambia è fare un'impresa, in questo caso un'impresa cooperativa, per consumatori che si impegnano proprio in prima persona per la gestione della loro azienda, che diventa quindi un progetto comunitario, un luogo di vita in cui si acquistano prodotti biologici, locali, eccetera. Però innanzitutto la nostra evoluzione è dire che c'è un altro modo di fare impresa, questo modo di fare impresa è l'impresa cooperativa in cui ognuno si dà una mano per la gestione. La gamma ovviamente è sempre in ampliamento perché quello che vuole fare Stadera è fornire tutto quello che serve per la spesa a un socio, quindi dall'ortofrutta, dalla pasta, dai passati di pomodoro, i detersivi, la linea di cosmesi, bevande, quindi un po' di tutto. Quello che cerca di fare Stadera in particolare è cercare di ridurre la distanza di approvvigionamento dei prodotti, quindi dove è possibile rifornirsi da fornitori locali, si cerca di ridurre sempre di più gli imballi, quindi predileggendo quei fornitori che seguono questa politica. Ovviamente con la frutta e la verdura ci concentriamo molto sul prodotto biologico e anche in questo caso sul chilometro zero, dove è possibile. Ovviamente poi sono i soci a chiedere i prodotti, a richiedere particolari cose che non ci sono, quindi si sta dietro anche a queste richieste.